ciao a tutti sono sabrina oddo a 48 anni e vivo a milano sono qui oggi per presentarvi il mio libro è un'autobiografia si intitola soltanto il nome e racconta appunto della mia storia questo libro è una liberazione è stato scrivere soltanto il nome è stato mettere nero su bianco ciò che è realmente accaduto e che negli anni è stato manipolato ingiustamente racconto ovviamente la storia della mia vita perché è un'autobiografia parlo dei dolori delle sofferenze dell'abbandono dei tradimenti delle bugie però poi fondamentalmente una storia d'amore una storia di rinascita vorrei ringraziare tutti tutte quelle persone che sono rimaste nonostante tutto tutte quelle persone che hanno creduto in me che continuano a credere in me che mi sono vicine tutte quelle persone che sono poche ma sono sempre le stesse questo mi dà speranza che che gli affetti veri esistono vorrei salutare tutti i lettori soprattutto i lettori della biblioteca don peppino lagna ciao scanzione il codice qr che ti porterà direttamente sul nostro sito web www.bibliotecalagna.it qui puoi trovare la raccolta della rubrica ti racconto un libro e tutte le nostre recensioni dei libri degli autori che hanno deciso di collaborare con noi inoltre puoi iscriverti alla nostra newsletter per essere sempre informato su ciò che pubblichiamo sul sito che pubblichiamo sul sito